La reggia era troppo piccola, cioè che facevi la rivoluzionaria a Gemiglia? Noi siamo stati per un filo, per saltare dalle tappare, questo era fuori discussione. Cioè nessuno di noi pensava che dieci scemoniti, come eravamo noi, potessimo fare la rivoluzione e prendere il potere. Noi pensavamo che attraverso la nostra iniziativa anche... Per fortuna che noi abbiamo preso il potere. Sì, per fortuna, perché sennò Polpozzi faceva un passo. Non lo fanno con l'unione, non lo fanno con l'unione. Ero Polpozzi in pallidiva. Nella famosa foto del sequestro Macchiarini si vede una canna di una Luger puntata alla tempia di Macchiarini con una mano guantata, la mano guantata è la mia, e la Luger è quella Luger. Non lo fanno con l'unione, non lo fanno con l'unione. Nella famosa potente. Non lo fanno con l'unione. Non lo fanno con l'unione e la mia, e la mia, e la mia, e la mia, e la mia. Grazie a tutti.